Un libro che racconta una storia, un libro che racconta una casa, un libro che racconta, Costanza di Quattro. Sì, il primo romanzo è un romanzo del cuore, è molto vissuta, è veramente un'introspezione personale, una lotta dicotomica tra il mio io e la mia anima, quindi è veramente un calarsi dentro la propria infanzia che poi è, come scrivono nel libro, forse uno dei momenti più alti e più felici, più spensierati della nostra esistenza, se si ha la possibilità, come ho avuto io, di viverla veramente in questo modo. Quindi è stato davvero un regalo che ho fatto a me stessa, spero di averlo fatto anche alle mie famiglie, all'onore dei miei nonni che in qualche modo sono un po' protagonisti di questo viaggio meraviglioso e quello di una bambina che rivive e rivede la propria infanzia in una casa che era una casa normalissima, una casa di una famiglia borghese e poi si è trasformata in un monumento nazionale, è diventata la casa di Montalbano.